Buongiorno cuori dell'Azzurri, dopo aver assistito ai latrocini arbitrali di Juventus Napoli e soprattutto alla faccenda dai contorni quasi amletici tra del Milan, tra closing e non closing parliamo, badando proprio al sodo, parliamo subito della partita che è l'Inter di domenica pomeriggio alle 15 che rappresenta senza dubbio un crocevino importante per nutrire le ultime esperienze in capi Champions da parte dell'Inter anche e soprattutto in virtù dello scontro diretto tra i due suoi principali competitor ovvero sia Napoli da una parte e Roma da un'altra domani pomeriggio alle 15 a tal proposito uno degli argomenti più scontanti in casa Inter degli ultimi tempi è sicuramente il capitolo modulo il capitolo modulo ovvero l'opportunità da parte della squadra di giocare o con il 4-2-3-1 che tanto bene aveva fatto nelle prime sette vittorie consecutive prima della partita scandalosamente celebre dello Juventus Stadium oppure il 4-2-3-1 che Piole sperimentava negli ultimi tempi con fortune alterne diciamolo e soprattutto nella gara rovinosamente persa contro la Roma nella quale forse abbiamo compreso che il 3-4-2-1 fatto a determinate condizioni non può andare bene a tal proposito quindi parliamo proprio della convenienza di giocare con il 3-4-2-1 sappiamo bene che una difesa 3 in un modulo come il 3-5-2, il 3-4-2-1, il 3-4-1-2 sempre premesse non concesso che le partite si vincono non tanto in base al modulo quanto in base alla volontà da parte dei giocatori di vincere la partita e di interpretarla in un certo modo la difesa 3 può essere fatta quasi sempre da tre centrali difensivi che abbinano costanza atletica a concentrazione massima quindi in tal caso il trio sudamericano Milano, Medel e Murillo offre delle garanzie più o meno buone insomma anche se qualcuno avrà da levire sulla posizione di Medel centrale difensivo che per taluni allenatori, all'ultimo il famoso Corrado Enrico celebre per allenare i suoi giocatori dentro le gabbie per le pecole insomma Medel che si esprime meglio da centrali difensivi piuttosto che da centrali di centrocampo perché come abbiamo già visto da centrali di centrocampo non avendo questi grandi doti tecniche del palleggiatore fa decisamente fatica fa decisamente fatica e come frangifrutti davanti alla difesa e soprattutto come costruttore di gioco cosa che non è mai stata Medel e quindi la difesa 3 con questi tre giocatori Milano, Medel e Murillo può funzionare poi passiamo alla nota durente contro la Roma il famoso centrocampo a 4 in cui Pioli ha deciso di mettere come esterni due giocatori che fanno della fase offensiva il loro punto forte ossia che andreva da un lato e poi risiccia da un'altra ebbene in un modulo in un modulo molto particolare come il centrocampo a 4 il centrocampo a 5 che dir si voglia di un modulo 3-4-1-2 o 3-5-2 i due esterni dovrebbero essere due esterni bassi che sanno fare che sanno fare decentemente la fase difensiva ma che poi in fase offensiva ogni tanto quando scendono mettono anche dei grossi interessanti lo possiamo notare tanto nella Roma dove come esterni difensivi abbiamo abbiamo Florenzi infortunato Florenzi infortunato ora è l'impiazzatore a Bruno Peres e dall'altro abbiamo Emerson Palmieri o Juan Gesusce che non sarà ovviamente un fenomeno ma che comunque il suo sporco lavoro lo fa così come l'ha fatto su Peres così come l'ha fatto su Candreva sostanzialmente annullandolo oppure nella Juventus dove finquanto dove giocando dove giocando finora con il 3-5-2 togliendo l'ultimo mese e mezzo in cui gioca con 4-2-3-1 in pianta stabile diciamo ha come esterni Licksteiner o Dani Alves da una parte e Evra ceduto ora al Marsiglia o Alexandro dall'altra quindi tanto Roma quanto Juve in fase di non possesso gioca con una difesa 5 una difesa 5 che magari per qualcuno può dare risultare una bestemmia tatticamente parlando ma che comunque ti permette di non soffrire troppo quando si è in fase di non possesso palla ossia quando la palla ce l'hanno gli avversari oppure quando tentano di sfondare sulle fasce cosa che non è successa come detto appunto a Roma in cui sia Candreva che però da un mese a questa parte è in una condizione psicofisica non ottimale e Perisic dall'altra che anche lui sta collezionando prestazioni diciamo molto discontinue negli ultimi tempi diciamo cosa che questi due esterni la fase difensiva cioè non hanno garantito contro la Roma quindi poi passiamo ai due trequattisti i due trequattisti che sarebbero Gio Mario anche se ultimamente Gio Mario è un po' su una linea di discontinuità e un altro e Brozovic Brozovic che secondo me è un giocatore che è tornato a essere discontinuo come lo era prima quindi potrei quindi da mettere quasi di autorizzare le partite in corso soprattutto nel momento in cui occorre occorre praticamente la giocata del singolo cosa che nelle corte di Brozovic quando ripeto decide di entrare con la testa della partita ma quando decide cioè di entrare con la testa della partita insomma ecco quindi il 3-4-2-1 il 3-4-2-1 può funzionare a due determinate condizioni la condizione psicofisica che deve essere decente se non ottimale e soprattutto il fatto che nei due esterni del 3-4-2-1 devono esserci due esterni difensivi che sono in grado di abbinare fase difensiva scusate mi è venuto il dito medio diciamo che siano incapaci di alternare la fase difensiva a una buona fase offensiva per questo motivo e considerando anche il fatto che l'Ether non ha ancora gli interpreti giusti in alcuni elementi per fare questo tipo di modo è colunque che proporrei per Cagliari un 4-2-3-1 come sulla scia delle sette partite vinte di seguito prima di quella contro la Juventus quindi se dovessi buttare giù una formazione con 4-2-3-1 la mia sarebbe andando vincito ai pali da destra verso sinistra D'Ambrosio Milanda Medel anche se non escluderei un utilizzo di Murillo al posto di Milanda o di Medel e a sinistra un Nagatomo o un Ansaldi un Nagatomo o un Ansaldi anche se attualmente il meno peggio rappresenta Nagatomo insomma che a differenza di Ansaldi ogni tanto la fase difensiva riesce a farla discretamente benché nutra benché nutra per questo istante il desiderio il desiderio che uno dei due se ne vada o se non tutti e due insomma in attesa poi di prendere a sinistra a giugno un esterno ben più valido si parla tanto di Ricardo Rodriguez del Fosburg del Fosburg diciamo per la cronaca e spero tanto dunque che arrivi e che metta diciamo fino al problema all'annosa questione del terzino sinistra insomma quindi quindi a sinistra io profilerei più Nagatomo di Ansaldi se dovessi giocare con 4-2-3-1 per quanto riguarda il due di cento campo fermo 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 restando l'imprescindibilità di Gagliardini che rappresenta sicuramente il fulcro della squadra che all'Inter mancava da moltissimi anni dopo l'addio doloroso addio di Gambiasso accanto a Gagliardini piazzerei uno tra Condombia e Brozovic considerando che Condombia negli ultimi tempi ha fatto delle buone prestazioni togliendo quella contro la Roma in cui in cui ha sofferto moltissimo il pressing giallorosso perdendo anche palloni sanguinosi in mezzo al campo oppure Brozovic che però come detto è molto discontinuo è molto discontinuo e non sai mai che cosa ti può dare nel senso che può alternare partire da potenziali do player a partire in cui dopo 45 minuti un qualsiasi allenatore verrebbe voglia di prenderlo per il collo e mandarlo negli spogliatori quindi accanto a Gagliardini o Brozovic o Condombia poi la batteria dei tre trequartisti è scontata quasi scontata con Candreva a destra a paese c'è a sinistra e poi la questione trequartista in cui Joe Mario va bene in quanto è un giocatore inutile che ci mette sempre la gamba e che fa della corsa e della buonissima tecnica di base la sua arma migliore anche se ultimamente vedendolo un pochino in calo proverei di nuovo con Banega Banega che era stato considerato come l'acquisto top dell'estate scorsa che si sta adattando probabilmente poco all'ambiente inter in particolar modo all'ambiente molto particolare del calcio italiano ma che tecnicamente è un giocatore a mio avviso indiscutibile che meriterebbe maggiore spazio e maggiore considerazione dal momento che rappresenta uno dei giocatori tecnici più forti della squadra e che quindi io non proverei mai a mettere da parte o a considerare alla stessa squadra alla stessa strada di un bian bian qualunque con tutto il rispetto che nutro per quest'ultimo insomma quindi proverei con Banega al posto di Joe Mario e poi si potrebbe anche considerare il fatto di cambiare Candreva il Candreva che come già detto è in una condizione psicofisica non ottimale per usare un eufemismo e quindi potrebbe anche potrebbe anche essere scogitata una soluzione tipo Gabigol che ok di Gabigol si è discusso moltissimo si è discusso sul fatto che fisicamente e tecnicamente non sia ancora un giocatore adatta al calcio italiano ma che secondo me è un giocatore che meriterebbe anche maggiore spazio quindi al posto di Candreva potrei pensare a un Gabigol esterno che poi mano a mano si accenta per fare la spalla ai guardi i guardi che è indiscutibilmente la punta di diamante di questa squadra benché benché come sottolineato dal mio amico Cristiano non si è niente asferta dalla gara di Empoli vinta con vinta 2-0 vinta 2-0 in buona scioltezza quando al tempo c'è la deborra ancora in panchina quindi non escluderei una mossa del tipo Candreva fuori e Gabigol dentro Gabigol in una posizione di esterno ibrido che poi mano a mano va a dare una madre ai cardi in fase in un possesso quindi trasformando quindi trasformando diciamo quindi dando vita a un modulo particolare insomma che adesso che adesso diciamo il cui numero non mi viene in mente in sostanza ecco però una soluzione una variante al tema di questo tipo sinceramente fossi i pioli la proporrei quindi fermo quindi fermo restando che il 4 quindi fermo restando tutto questo mi auguro che l'Inter faccia una buona partita che dimostri psicologicamente di aver reagito alla grandi alla sconfitta dolorosa contro la Roma e che ovviamente porta a casa la posta piena per nutrire come detto gli ultimi residui e speranze in cave champions le cui probabilità se prima si aggiravano a mio avviso intorno al 30-40% sono scesi inevitabilmente al 20-30 ma mi auguro che questo 20-30% di possibilità possa essere giocato possa essere giocata dalla squadra diciamo nel miglior modo possibile questo è l'auspicio mio come l'auspicio ai noi tifosi insomma anche perché con 12 gare a disposizione non tutte le speranze si sono vanificate nel null sono vanificate insomma e quindi la speranza e quindi la speranza finché è viva bisogna tenerla comunque in piedi e dunque mi auguro che la squadra riesca in questo intento già a partire da Cagliari e quindi mi auguro di essere stato abbastanza chiaro e conciso nell'elaborazione del prepartito di Cagliari e Inter ovviamente mi invito a mettere il mi piace e a commentare sul video magari per credere costruttive che sono sempre ben accette e ovviamente mi invito a iscrivervi vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube sempre aggiornato e sempre pieno di spunti di riflessione speriamo un saluto a tutti dal vostro Johnny e ovviamente amala sempre